Chiedo scusa, dove posso trovare il reverendo Johnson? È giù alla chiera. Grazie. Posso lasciare qui i miei bagagli solo per qualche minuto? Vuole sapere se saranno ancora qui quando torneranno? Ecco, no, no, io pensavo che... Non siamo tutti ladri qui alla frontiera, signorine. No, 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 certo che no. Non vorrei che potessero dare fastidio a qualcuno. No. Prego, madame. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Michaela Quinn, medico. Il nuovo dottore. Temo proprio di non capire. Il telegramma diceva Michael Quinn. Credevo di averlo sillabato chiaramente. Non Michael, Michaela. Mio padre aspettava un maschio. Anch'io se per quello... Le spiace venire con me? Certamente. Ma che succede? Sono il colonnello Shevington, il capo Cheyenne Pentola Nera. L'esercito tratta con gli indiani per il territorio a nord di St. Crete. Oh mio Dio. Va tutto bene? Certo, sì, sto bene, sì. Tutto bene. Tengo. Lores? Lores! Sì? Sono quassù. Che succede, reverendo? Quel telegramma. Quello che hai ricevuto dal medico di Boston. Com'era firmato? Eh, che vuol dire? Tu non hai cambiato niente, vero? Certo che no. E a parte quell'iniziale, io pensavo che non le sarebbe importato del secondo nome. L'iniziale di quel secondo nome era una A, vero? Proprio così, signorina. Grazie, Oressa. Oh, di niente. Sono molto imbarazzato, signorina Quinn. Vorrei scusarmi con lei per l'inconveniente, oltre che pagarle il viaggio di ritorno a Boston. Non sarà necessario, grazie. Colorado Springs ha bisogno di un dottore e io lo sono. Ma lei non riesce a capire. Nessuno ha mai sentito di un dottore donna qui. C'è una prima volta per ogni cosa. Non ci sono donne sole rispettabili qui a Colorado Springs. È un peccato, reverendo. Ogni città dovrebbe averne almeno una. La vedova Cooper non accetta donne come pensionanti. Vai a chiamare tua madre. Ehi, ma! Ehi, ma! Sì, arrivo! Buongiorno. Charlotte, c'è stato un terribile errore. Si tratta solo di un piccolo malinteso. Credevo che Miss Quinn fosse un uomo e... Voglio dire che l'ho immaginato quando ha risposto all'annuncio. Credevo che fosse un medico. Io sono un dottore. Così? Lei è il nuovo dottore? Sì, infatti. Non è questo che... Michele è qui, il medico. Charlotte Cooper. Cooper. E questi sono i miei figli, Matthew il più grande. Questa è Colin. E... Brian. Il suo vestito è tutto sporco. Maleducato. Ho detto a Miss Quinn che lei accetta solo pensionanti uomini. Non è una regola. Matthew, vai ad aiutare il reverendo a portare i bagagli della signorina. Bambini, su, forza. Prego. Benvenuta. Lei è un vero dottore? Sì, esatto. È andata all'università e tutto il resto? E tutto il resto. Oh, mi scusi. Da questa parte, prego. È al piano di sopra. Grazie.